Direttore, una partita che ha messo alla luce il carattere di questa squadra che forse fino ad oggi non era mai stata espressa in maniera così determinante, no? Ma effettivamente oggi ragazzi è stato questo, al di là dell'aspetto tattico, tecnico, ma quello che abbiamo cercato di svegliare di noi è stato l'aspetto agonistico, l'aspetto della voglia e dell'appartenenza ecco questo è stato l'arma in più, perché poi insomma sì, il secondo tempo abbiamo subito molto ma era quasi nella logica delle cose in quanto c'era gente, i giocatori che ne giocavano tanto, c'erano tanti under ma non c'entra gli under, hanno giocato talmente bene che non hanno fatto pesare nulla se non dal punto di vista fisico che era quasi una cosa naturale Può essere segnalata l'area scorsa e il cambiamento di questo atteggiamento mentale che fino ad oggi ha visto l'atletico sostituire più dal punto di vista psicologico che dal punto di vista tecnico, le partite con, specie con le big, no? Ma oggi abbiamo battuto una grande squadra, questa è da segnalare innanzitutto, perché è una squadra importante, una squadra forte, una squadra in tutte le parti che ha giocatori importanti quindi avere la battuta dà la dimensione che noi dobbiamo adottare settimana per settimana non abbiamo più un laccio col fatto che noi, una società importante, una squadra importante, tutto ci era dovuto, assolutamente no non è così, questa è la dimostrazione che se non metti cuore, gambe e lucidità in alcune situazioni puoi perdere con chiunque come puoi vincere con chiunque se mettiamo tutto il contrario, se mettiamo voglia, se mettiamo determinazione, l'appartenenza alla maglia questo mi dà fiducia nel senso che questa società ha preso dei provvedimenti importanti nessuno magari se lo aspettava in un momento così critico, fra scoliti, infortuni e tutto però la dimostrazione è che non guardiamo, la società non guarda, anche se è giusto guardare però prima di tutto viene l'aspetto disciplinare, l'aspetto della voglia di stare insieme quindi questo è il risultato che abbiamo fatto giocare per i giocatori che non calcavano la prima squadra da qualche settimana e che hanno risposto benissimo grazie 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 grazie